Sto impazzendo, odio tutti. È troppo tempo che siamo qua su da soli. Non so se riuscirò a sopportare ancora i miei compagni. Non è assolutamente possibile mantenere la disciplina. Non ascoltano, stanno alzate fino a tardi. Non abbassano mai la tavoletta del cesso. E non dicono mai dove vanno. Ieri Vandelli ha lasciato aperto la porta dell'incuadrice solare per tutto il giorno e sono rimasto esposto alle radiazioni di Helio 3. Helio 3 è quello che usiamo per le nostre modificazioni genetiche controllate. Anche stavolta sono riuscito a ricordare il mio nome soltanto grazie alla targhetta sulla tuta. E ho un paio di appunti che mi ero fatto così. Dan. Ho dovuto ricostruirmi la memoria così tante volte che non sono più nemmeno sicuro che questa sia la mia. C'erano questi ricordi amici della mia infanzia. Comunque, l'Ele invece nel tentativo di far crescere una nuova cultura ha contaminato il cavolfieno con i minidroidi falciatori per cui non possiamo più accedere al settore M2 a meno che non vogliamo diventare calvi dappertutto. Ho dovuto metterlo in punizione per una settimana intera nella sua cabina. Cioè mi sembra di avere a che fare con dei bambini. Ragazzi! Chico! Quante volte vi ho detto che non si gioca nel cibo? Chico! La tua volta! Posa, 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 posa. Grazie a tutti.